Andrea Giorgis, parlamentare PD, le motivazioni della consulta che a dicembre ha bocciato il Porcellum, le prime audizioni che si sono già svolte qui alla Camera, che quadro danno per la nuova legge elettorale? Dalla decisione della Corte, dalle motivazioni che ieri sono state depositate e dalle prime audizioni è emerso che innanzitutto la Costituzione non impone un solo sistema elettorale e riserva al legislatore quindi sul punto una significativa discrezionalità. Tuttavia, come la Corte ha ricordato, ci sono dei limiti che il legislatore incontra e questi limiti sono sostanzialmente di due ordini. Innanzitutto è necessario, dice la Corte, che all'elettore sia riconosciuta una qualche possibilità di scegliere il candidato. In secondo luogo è necessario che meccanismi premiali, espliciti o impliciti, soddisfino un requisito di ragionevolezza. Cosa vuol dire? Che una limitazione alle esigenze di rappresentatività è legittima in nome della necessità di soddisfare esigenze di governabilità. Però deve essere una limitazione contenuta, una limitazione proporzionata, una limitazione che non si spinga fino al punto di mortificare oltre ogni misura le esigenze dell'uguaglianza del voto in entrata e in uscita. Di conseguenza, sia la Corte Ruzionale, sia coloro che abbiamo audito, hanno richiamato la necessità che si predisponga a un sistema elettorale che, pur prevedendo un qualche meccanismo premiale, una qualche forma di incentivo alla costruzione di maggioranze, al fine appunto di garantire governabilità, tuttavia questo meccanismo premiale sia un meccanismo che non ricade negli stessi vizi che presentava la vigente elettorale, che sostanzialmente vuol dire o si introduce una soglia di sbarramento, un limite che deve essere raggiunto, una volta raggiunto allora è possibile far scattare un premio, oppure comunque se si prevedono forme premiali implicite occorre che ci sia anche una qualche forma di riproporzionalizzazione e quindi di garanzia delle esigenze della rappresentatività. Poi è anche emerso a questo proposito un aspetto molto importante che credo debba essere considerato, e cioè che mentre le esigenze di rappresentatività sono in gran parte garantibili attraverso una regola giuridica, una regola giuridica che a qualche misura consenta a tutte le forze politiche di trovare una qualche rappresentatività, le esigenze della governabilità invece non sono di per sé garantibili attraverso una sola regola giuridica. Bisogna a questo punto fare tesoro anche dell'esperienza passata e muovere dalla consapevolezza che occorrano delle condizioni politiche sostanziali. Si possono immaginare premi di maggioranza che rendono possibile a una coalizione di vincere le elezioni, ma non è detto che questa maggioranza che vince le elezioni sia automaticamente anche una maggioranza in grado di governare. Insomma, la governabilità la si deve perseguire anche attraverso la ricerca di condizioni politiche sostanziali e dunque l'ingegneria elettorale, l'ingegneria costituzionale bisogna ricordarsi che incontra dei limiti e la Corte e coloro che abbiamo uditi ci hanno un po' richiamato a questo dato di verità, è un dato di verità e un dato di esperienza. A questo punto le chiedo, il PD come si muoverà? Quali saranno le proposte che presenterà il PD? Restano in campo quelle del segretario Renzi? Il PD, certo, restano in campo le proposte del segretario Renzi anche se naturalmente quelle proposte dovranno essere articolate in maniera tale da tenere conto di questi due paletti cioè fare in modo che l'elettore possa comunque partecipare alla scelta del candidato e quindi dell'eletto e fare in modo che i premi di maggioranza comunque siano premi di maggioranza compatibili con l'esigenza della rappresentatività però c'è un punto che è molto importante sottolineare sia la Corte ma soprattutto gli esperti che sono stati ascoltati in questi giorni hanno messo in evidenza come per garantire davvero l'esigenza della governabilità e per fare in modo che il sistema elettorale produca una maggioranza in grado di esercitare un'azione di governo occorre evitare il rischio che ci possano essere nelle due Camere maggioranze diverse il che è possibile solo se si supera il bicameralismo perfetto ecco allora che in questo diciamo anno che ci attende in questo patto di governo che il PD intende stipulare un punto qualificante sarà proprio quello di superare il bicameralismo in modo da rendere il sistema rappresentativo meglio capace di corrispondere anche alle esigenze della governabilità e quindi